Tecnologia all'avanguardia e trattamenti di tendenza e a Lecce la fiera più importante del sud Italia nell'ambito dell'estetica e del benessere concepita a 360 gradi. Esteticamente in fiera dedica per il secondo anno consecutivo alla medicina la chirurgia estetica interamente un settore tramite il congresso fuori salone. Tanti e diversi gli espositori dove professionisti della bellezza e semplici visitatori potranno conoscere le nuove tendenze dell'estetica e del layer. Grazie a tutti gli espositori, a tutte le persone che ci danno fiducia e che da anni ci seguono in questo percorso e che arrivano da tutta Italia. Qualche azienda arriva anche dall'estero perché ci sono anche delle aziende che arrivano dalla Palonia, altre arrivano dalla Spagna. Uno spazio allestito all'interno del Lecce Fiere Piazza Palio in cui sentirsi coccolati orientati al benessere psicofisico della propria persona. Il nostro obiettivo principale sin dalla prima edizione è quello di far incontrare le grandi aziende distributrici con gli operatori di settore. La fiera che si sviluppa in tre giornate sarà anche occasione per prendere parte a convegni di formazione, seminari e workshop. Abbiamo avuto il piacere di realizzare il primo congresso medico-scientifico a Lecce con la partecipazione, anzi con i responsabili scientifici, il professor Lorenzetti, il professor Ribuffo. Tra gli altri presenti all'evento anche Miriana Trevisa nel parrucchiere Federico Lauri meglio conosciuto come Federico Fashion Style. Per lui è il terzo anno esteticamente in fiera. Sono fierissima di essere qui, di essere madrina, ambasciatrice della bellezza. La bellezza è un settore molto importante per far stare bene anche psicologicamente. Beh, devo dire che questo è il terzo anno che sono qui esteticamente in fiera. Quest'anno con una novità, sono qui con il mio stand e sono molto felice di essere sempre qui da voi. Mi sento proprio a casa. Grazie.